Ciao, il podcast della dottoressa Angela Cialone, che sta per ascoltare, è consigliato da GP Software. Siamo specializzati in soluzioni per contabilità, fiscale, buste paga, consulenza e revisione. Ringraziamo per lo spazio offerto e per la fedeltà nell'utilizzo dei nostri gestionali. Buon ascolto! Adempimenti imprese, la tenuta e la conservazione dei documenti informatici. L'articolo 12 octis del Decreto-Legge numero 34 2019 prevede che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge. Se, in sede di accesso, ispezione o di verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata degli organi precedenti e in loro presenza. Questo è quando è stato affermato dall'Agenzia delle Entrate in una risposta di interpello la numero 236 pubblicata il 9-4-2021. L'Agenzia delle Entrate ha affermato proprio in questa che l'obbligo di stampa cartacea può essere effettuato anche soltanto all'atto del controllo e su richiesta dell'organo precedente, già previsto limitatamente ai registri IVA, poi ancora prosegue a tutti i registri contabili tenuti in via meccanizzata o elettronica. Qui vorrei ricordare che i documenti informatici rilevanti ai fini tributari devono possedere le caratteristiche dell'immodificabilità, dell'integrità, dell'autenticità e della leggibilità. Essi vengono conservati in modo tale che siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità. Siano consentite inoltre le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla data, alla partita IVA o associazioni logiche proprio di questi ultimi laddove tale informazioni siano obbligatoriamente previste. Inoltre il processo di conservazione dei documenti informatici termina con la posizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione. Per quanto concerne il processo di conservazione, l'agenzia delle entrate richiama l'articolo 5,16 del decreto legge ultimo 41 del 2021, il quale ha previsto con riferimento al periodo di imposta in corso, quindi al 31 dicembre 2019, il processo di conservazione di cui all'articolo 3,3 del decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014, recante disposizioni sulle modalità di assorbimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto. Si considera tempestivo se effettuato al più tardi entro i tre mesi successivi al termine previsto dal decreto legge numero 10 del 94. Se ti è piaciuto questo podcast iscriviti al canale per stare sempre aggiornato su fisco e lavoro. Hai domande, curiosità, argomenti da suggerire? Scrivimi al commento sotto questo podcast. A presto!